Secondo la legge, la residenza è il luogo in cui la persona ha dimora abituale. In pratica la residenza è il posto in cui un soggetto vive, l'indirizzo della sua abitazione principale. Ogni cittadino ha l'obbligo legale di fissare la propria residenza nel comune in cui vive. La residenza va infatti registrata presso l'ufficio Anagrafe. Alla registrazione formale segue un accertamento da parte della Polizia Municipale entro 45 giorni. Se c'è un trasferimento stabile in un'altra città, occorre cambiare la residenza. Se invece il trasferimento è temporaneo, il cambio non è necessario. Il domicilio è invece il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi. In pratica rappresenta la sede della sua vita professionale e lavorativa. Ad esempio, marito e moglie possono avere la residenza nello stesso luogo, ma due domicili diversi nei posti in cui lavorano. Le bollette arrivano alla residenza, mentre i documenti di lavoro o le pratiche professionali arrivano al domicilio.